Hugo von Hofmannsthal, celebre poeta, scrittore, drammaturgo e librettista austriaco, lavora al suo romanzo Andreas Olaf Heinigten per vent'anni della sua vita, precisamente dal 1907 al 1927. Il romanzo si presenta inizialmente nella classica forma del Bildungsroman, del viaggio di formazione, ma si rivela presto, andando avanti con la lettura, un vero e proprio rito iniziatico. Il giovane protagonista, Andreas von Verschengelder, parte da Vienna alla volta di Venezia e compie contemporaneamente e metaforicamente un viaggio nel suo io più profondo, con la speranza alla fine di ricongiungere, quindi di riunire, quelle parti del sé ancora divise. Percorre delle tappe precise e fa degli incontri non casuali, come ad esempio il servitore Gotthelf, la fanciulla romana, il cavaliere di Malta e infine la figura enigmatica e misteriosa di Maria Marichita. Una volta giunto a Venezia, nel regno della dissimulazione e dell'inganno, dove la gente è quasi sempre mascherata, i confini tra sogno e realtà si faranno sempre più labili e la dimensione onirica e dell'inconscio si rivela presto più reale della realtà stessa. Questo capolavoro hofmanstaliano giunge al pubblico di lingua italiana, inizialmente grazie alla traduzione di Gabriella Bemporad del 1932, ripresa e riedita ad Adelphi nel 1970 e trovano a nuova forma nel 2019 grazie alla traduzione di Andrea Landolfi, docente del nostro dipartimento, edita presso l'editore del Vecchio. Le due traduzioni si differenziano non solo per il titolo, rispettivamente Andrea o i ricongiunti nella versione della Bemporad, mentre Andreas o i riuniti in quella di Landolfi, ma per ben altre caratteristiche. Ma l'innovazione, e oserei dire la rivoluzione di Landolfi, è quella di proporre un testo in una forma inedita che non era presente nemmeno nel suo originale tedesco. Landolfi compie infatti non solo una traduzione, ma contemporaneamente un lavoro di tipo critico-filologico, proponendo un apparato di appunti e frammenti completo, disposti in una sequenza cronologica, che permettono al lettore di entrare nel vivo in quello che era il progetto originale del suo autore, Hofmannsthal.